Arrivano i primi sms di risposta per il reddito di cittadinanza. Se per alcuni la Pasqua porterà doppi festeggiamenti, altri dovranno buttare giù un boccone amaro. In Toscana, infatti, sono state accettate solo 18.614 delle oltre 30.000 richieste. Di queste, 10.369 sono state bocciate e 335 sono oggetto di rivalutazione. Rispetto al dato nazionale, che registra un 72% di richieste accolte, la Toscana resta indietro, con un 63,5% di domande accettate. Solo due aspiranti toscani su tre riceveranno il sussidio. In tre province toscane, la percentuale scende addirittura al di sotto del 60%. Parliamo di Siena, con 57,2% di domande accettate, seguita da Prato, con il 58,4%, e Firenze, dove il dato di accoglimento si ferma al 59,8%. Chiuse le domande per il reddito, si aprono quelle per diventare navigator, colui che dovrà supportare i centri per l'impiego nel reinserimento lavorativo dei beneficiari del reddito. La domanda va presentata entro l'8 maggio. Per candidarsi è necessaria una laurea magistrale o specialistica. L'incarico dura due anni e prevede uno stipendio di circa 1.600 euro netti al mese. Si parla di 2.980 posizioni aperte su tutto il territorio nazionale. Di queste, 152 sono aperte in Toscana e suddivise su 53 centri per l'impiego. A Firenze saranno assegnati 40 navigator.